Buongiorno e buona domenica, benvenuti in Cioco Art Sondrio e dopo tutto l'avvento ieri, grande giornata e quello di questa mattina, l'ultimo collegamento dopo aver visto Willy Wonka in azione, adesso con la via del cioccolato abbiamo Alessandra che ci spiega la proprietà del cioccolato, la sua lavorazione velocemente. Benvenuta Alessandra. Ciao, noi facciamo un tipo di lavorazione che si chiama, denominato Vintupar, significa la lavorazione della fava del cacao fino a farla diventare una favorezza di cioccolato, seguiamo proprio tutto il processo di lavorazione, quindi le fave di cacao arrivano a noi, noi le fissiamo, le maciniamo in pietra e poi con un solo ingrediente aggiunto dell'eggiunto di canna facciamo le frutte. Quindi proprio la lavorazione è fatta proprio in quale modo? Naturale. Ok, ringraziamo Alessandra e la via del cioccolato, tutto da Cioco Art, un saluto domenicare e alla prossima. Ciao, ciao.